A me io impazzesco per queste persone che hanno proprio una capacità da andare a sappiare la caccola sopra. Guarda che si è gonfiato l'occhio, un filo è ardito e l'occhio gli esce fuori. Hai visto? L'altra ora è l'occhio, si dice cazzo mi sono lavato l'occhio. A parte, c'è quello che sta a cercare. Hai visto che l'occhio cazzo sta? La arrivo. Guarda dove sta, guarda qua, guarda dove cazzo sta. Se la tirano giù. Quella magari se ne è andata, se ne è andata dentro il cervello. No, se la tirano giù, è cacqua, è cacqua, è cacqua. Ma poi te la tiri giù. Ma che c'è il parchettone di internazzi? Aspetta, aspetta, tiro giù la scatola dalla dobbidata, fammi dire che c'è sta la cacqua là dentro. A me mi fanno un paziente, non gli frega niente, dai sì, mi stanno. Se donna il servolume dello stereo, lo fanno con questa mano qua. E questa ormai è nata, sì. È partita, ormai sta incollata dentro, sta incastrata, capito? Poi se girano verso te, vedi chi sta guardando. Andava a messa. Andava a messa. Andava a attaccata. Eh? E delle volte fai quelle... Adesso quelle che sembri Silvan, quelle che non ti levi più. Quelle che... E beh, una caccoletta, se la siamo levata tutti, eh? Dai, quelle che... Che dall'indice, dalla passia al medio, dal medio al mignolo, sul parmo, sul copito. Che schifo, sulla spalla. Dopo un po' d'ala si è levata, vedi, scelgo più. Dopo un'ora d'ala ritrovite qua.